Dall'alto della sua posizione, l'FC Lucca continua a guardare avanti, ma sempre con un occhio di riguardo alle avversarie. Il distacco tra i rossoneri e la seconda in classifica è infatti di ben 19 punti, ma questo non vuol dire che la squadra deve o può distrarsi. Squadra che tra l'altro si è allargata, la società ha infatti tesserato due ragazzi, entrambi classe 93. Jacopo Cambi, centrocampista, e Dogenio Guidi, attaccante esterno-destro, che al momento si alleneranno con la prima squadra, ma al sabato giocheranno con gli juniores. Poi starà a mister Lazzini decidere se schierarli o meno con i grandi. Intanto l'FC Lucca si prepara alla trasferta di domenica contro la Livorno-Prosorgenti, che si disputerà allo stadio Armando Picchi di Livorno. Visto che lo stadio dove di solito gioca il prosorgenti Livorno le gare interne è troppo piccolo per accogliere tutti i tifosi che abitualmente seguono i rossoneri, circa 300. Una formazione lucchese torna così a giocare all'Armando Picchi a distanza di 10 anni. L'ultima volta fu il Livorno-Lucchese del 2001 ed in quella occasione a vincere furono gli Amaranto per 3-0. Tornando a domenica nel pre-partita fra Pro Livorno e Lucchese si terrà una partitella fra le squadre giovanili delle rispettive scuole calcio. Scenderanno in campo alle ore 13 le categorie 2001 di Pro Livorno diretta dall'ex rossonero Massimo Spigoni e la lucchese junior di Augusto Rotolo.